Dovrà essere l'autorità nazionale anticorruzione a capire se vi siano meno irregolarità nel bando per la gestione dell'autovelox di Agropoli. Tutti gli atti sono stati indirizzati all'ANAC dall'onorevole Alberico Gambino, il quale ha evidenziato anomalie nella gara d'appalto. Non solo quelle dell'Unione dei Comuni Alto Cilento, per conto del Comune di Agropoli, ma anche di Albanella e Ceraso. Diverse le presunte irregolarità individuate dal consigliere regionale, finalizzate a far vincere una determinata impresa. Di qui l'esposto è la constatazione che gli atti siano caratterizzati da profili di legittimità palese, in quanto restringono coscientemente la partecipazione di più imprese concorrenti, di fatto statuendo a priori il vincitore. Insomma, una gara d'appalto che, secondo le accuse, non sarebbe limpida, ma finalizzata a far vincere un determinato concorrente. Non è la prima volta che la questione dell'autovelox di Agropoli, posto tra gli svincoli Agropoli Nord e Agropoli Sud della Cilentana, viene portata all'attenzione dell'ANAC. Alla battaglia per la legalità si è aggiunta anche l'associazione Noi Consumatori, guidata dall'avvocato Giuseppe Russo, che da tempo è impegnata sulla questione dell'apparecchio per il controllo elettronico della velocità. Nonostante vi siano state già tre bocciature, ha evidenziato Russo, l'amministrazione di Agropoli, con recidiva da condannare, continua questa corsa al guadagno facile con l'autovelox. Purtroppo, è l'amara constatazione del presidente, prendiamo atto di altre realtà che seguono il cattivo, anzi pessimo esempio di Agropoli, ovvero Albanella e Ceraso. Sarà un autunno caldo, conclude l'avvocato di Castellabate.